La proclamazione degli eletti Nel centro-sinistra si analizza la sconfitta elettorale con la mente rivolta alle amministrative del 2024 Nuovo avvistamento di lupi a Baiano, questa volta due esemplari si sono spinti fino in centro Presentato al cartellone della Prato estate, tanti eventi non soltanto in centro, tra musica, teatro, cinema e danza A tutti una buona sera e ben trovati a questa edizione del nostro Tg Torniamo ad occuparci delle elezioni a Poggio a Caiano dove il risultato uscito dalle urne ha premiato Riccardo Palandri A spese del sindaco in cerca della riconferma Francesco Pugelli Oggi la proclamazione di Palandri che ha preso posto nell'ufficio del sindaco Il neo primo cittadino di Poggio a Caiano attribuisce la propria vittoria al suo essere civico I partiti di centro-destra hanno dato il loro appoggio ma si sono messi da parte Ha detto Palandri 61 voti di differenza sono quelli che hanno determinato la vittoria a Poggio a Caiano del candidato di centro-destra Riccardo Palandri E dall'altra parte la mancata riconferma di Francesco Pugelli Palandri ha ottenuto 2.094 preferenze, Pugelli 2.033, 4.127 gli elettori totali pari al 57,68% degli eventi diritto Un'affluenza maggiore di 3 punti percentuali e mezzo rispetto alle ultime amministrative a Poggio del 2018 In linea con il dato delle comunali del 2013 Un risultato storico per il centro-destra che vince dopo 25 anni in interrotti di guida del centro-sinistra del comune Mediceo Anche se i risultati ufficiali dell'ultima sezione sono arrivati in ritardo Verso le 17.45 nel comitato di Palandri è partita la festa Prima gli abbracci in via Garibaldi, poi il corteo verso via Cancellieri, sede del municipio Dove decine di bicchieri erano stati disposti sulla ringhiera che delimitano l'area del palazzo comunale per il brindisi finale Una vittoria che Palandri rivendica come propria in quanto candidato civico E che non attribuisce interamente a eventi nazionali che peraltro appoggio alle ultime politiche regionali E hanno premiato i partiti di centro-destra come aveva affermato Pugelli nelle dichiarazioni rilasciate dopo la sconfitta Io penso che come candidato civico sicuramente è stata un'allarma anche vincente Noi fin da tempo ci siamo riuniti con i cittadini e con quelle persone che mi hanno cercato E che abbiamo cercato dal primo giorno di essere in mezzo al popolo E' stato bello perché camminare per Poggiaccaiano voleva dire incontrare le persone Mi fermavano e mi dicevano guardi Palandri c'è questo Questo è stato secondo noi l'arma vincente Il fatto di essere veramente vicino al popolo Sicuramente la situazione politica ha dato una mano altrimenti non saremmo qui e ringrazio chiaramente i partiti Che però dal primo giorno hanno dato l'appoggio al 100% ma si sono messi da parte Intanto sono stati resi noti i nomi dei consiglieri eletti 8 vanno alla maggioranza e 4 all'opposizione Tra questi ultimi il candidato sindaco non eletto Francesco Pugelli Campionessa di preferenza e la consigliera della Lega di Letta Bresci Che peraltro ha ricevuto la telefonata del ministro delle infrastrutture Matteo Salvini Il leader del Carroccio si è complimentato con Bresci Per il lavoro fatto negli ultimi 5 anni di opposizione Congratulandosi anche con il neo sindaco Palandri Gli ha assicurato pieno sostegno in materia di infrastrutture L'ingresso di Bresci nella nuova giunta è dato praticamente per certo E poi c'è la parte sconfitta Appoggio a Caiano Non solo il sindaco uscente non riconfermato Ma anche il partito di cui fa parte il PD Ma ascoltiamo l'analisi del voto da parte del centro-sinistra Nelle voci del segretario provinciale del PD E del sindaco Biffoni Tra effetto Schlein e preoccupazioni per le amministrative pratesi del 2024 Sentiamo È una sconfitta che fa male e che fa riflettere Il PD di Prato si interroga dopo la mancata riconferma di Francesco Pugelli Appoggio a Caiano L'alternanza è tipica dei momenti più duri La pandemia ci ha insegnato che gli scenari cambiano rapidamente E talvolta possono cambiare anche a svantaggio di amministratori capaci e presenti Come Francesco Pugelli Queste le parole a caldo del segretario provinciale del PD Marco Biagioni Che alla domanda su cosa non abbia funzionato nel primo banco di prova per il PD Della segretaria Schlein invita a valutare il fattore tempo In realtà l'effetto Schlein arriverà fra un po' In realtà da pochissimo abbiamo fatto un congresso Anche a Prato è da dopo il congresso Che abbiamo iniziato seriamente a fare un percorso di cambiamento e di unità E questa forse è la cosa che più di tutto è la novità rispetto all'anno passato in questo partito Eviterei l'azzardo di dire che Poggio a Caiano ha un esito simile a quello del 2009 Si parla comunque di un comune di 10.000 militanti Con le sue peculiarità rispetto alla seconda città della Toscana e la terza del centro Italia Che ha dinamiche completamente diverse, partiti organizzati Non ci sarà immagino a questo giro il finto civismo che abbiamo visto per Poggio a Caiano La mente del Partito Democratico è quella di uno dei suoi dirigenti Il sindaco Matteo Biffoni va alle amministrative di Prato 2024 La preoccupazione c'è sempre, ogni volta che chiami gli elettori a votare la preoccupazione parte Perché tutte le volte che arrivano gli elettori alle urne Diciamo che si riava la partita L'avete visto nel 2019 Nel 2019 eravamo dati per spacciato tutti quanti Invece l'esito è stato favorevole al centro-sinistra Perché lì c'è stata una scelta, in quel caso, ponderata Dove uno elettori su quattro, circa un elettori su cinque Ha giocato il centro-destra all'europeo e il centro-sinistra alla ministra vive Ed appoggio a Caiano ci spostiamo a Campi Dove non è bastato il primo turno per eleggere il nuovo sindaco Il 28 e 29 maggio i campigiani dovranno tornare alle urne Per il ballottaggio tra i candidati Leonardo Fabri e Andrea Tagliaferri Sarà una sfida tutta a sinistra quella che andrà in scena a Campi fra due settimane Il 28 e 29 maggio i cittadini del comune fiorentino dovranno tornare alle urne Per eleggere il loro sindaco Come previsto non è bastata la prima tornata per eleggere il primo cittadino E ci sarà bisogno del ballottaggio La divisione sia a sinistra che a destra ha prodotto una frammentazione del voto Con ben cinque candidati Tutti peraltro hanno superato il 10% Ma solo Fabri ha toccato il 30% delle preferenze Alla fine dei giochi però a pagare maggiormente la divisione è stato il centro-destra Alla sfida a due sono arrivati infatti Leonardo Fabri Il candidato del PD E Andrea Tagliaferri, candidato della sinistra alleata con il Movimento 5 Stelle Restano fuori il candidato di centro-destra Paolo Gandola Appoggiato da Forza Italia e Lega Così come Antonio Montelatici appoggiato da Fratelli d'Italia Escluso anche il civico Riccardo Nocciotti Che comunque ha superato le 2000 preferenze Quello che si profila a Fabri è praticamente un derby Tutto interno al centro-sinistra possiamo dire Assolutamente sì Il campo progressista è un campo che nella sua totalità Supera il 50% dei consensi La destra paga le divisioni interne All'interno del campo di centro-sinistra è grande soddisfazione Perché sottoscritto è risultato il sindaco più votato Espressione del Partito Democratico Anch'esso il partito più votato E poi c'è l'espressione della sinistra che si è staccata dal PD E non corre appunto insieme al PD Questo risultato in questi 15 giorni di qui al ballottaggio In cui voi vorrete prendere quanti più voti possibile Naturalmente questo è il nostro obiettivo Devo dire che è un risultato non solo di partito politico Ma è un risultato anche che riguarda tutte le liste civiche Ed è frutto di 10 anni di lavoro in consiglio comunale Insieme ai comitati civici di cittadini Quindi in città Questo è un risultato anche un po' possiamo dirlo inaspettato Visto il panorama politico E che siamo riusciti a superare Diciamo così partiti più blasonati Che anche governano l'Italia oggi Devo dire che per dirla in una battuta Abbiamo un po' insegnato al PD A battere le destre Il ballottaggio avrà scenari interessanti Al netto del 48% dei astenuti al primo turno Che fine faranno i quasi 8 mila voti Che si sono spartiti tre candidati esclusi? Due esemplari di quelli che a tutti gli effetti Sembrano lupi Sono stati avvistati nei giorni scorsi In pieno centro a Vaiano La segnalazione arriva da un cittadino Che domenica sera poco prima delle 23 Ha girato un video Nei pressi della grande rotonda Lungo la strada regionale 325 All'altezza del Fontanello Nel video si vede l'auto procedere lungo la strada regionale 325 E uno degli animali attraversare Per poi scomparire nella vegetazione della rotonda L'altro si scorza invece già nella vegetazione È il primo caso di avvistamento In una zona così centrale del comune Un avvestimento però che non deve creare allarmismo Esemplari di lupo sono già stati avvistati Le scorse settimane a Prato Segnalazioni che diventano sempre più frequenti Ed è per questo che gli esperti Hanno diffuso una sorta di vademecum Su come comportarsi per agevolare La convivenza tra l'uomo e animali selvatici Che sempre più spesso si spingono Fino alle zone abitate dagli uomini Il 26 maggio al convitto Cicognini Torna meravigliosamente Donne in Ant Saranno premiate sei donne Che con il loro lavoro hanno dato lustro alla città Dopo tre anni torna all'evento Meravigliosamente Donne in Ant Venerdì 26 maggio alle 19.30 Nei suggestivi spazi del convitto Cicognini Andrescena la serata promossa da Fondazione Ant Per celebrare la femminilità e l'impegno sociale L'evento patrocinato dal Comune di Prato Sarà l'occasione per Fondazione Ant Di premiare sei donne che danno lustro Alle città di Prato e Pistoia Grazie al loro lavoro in diversi ambiti Industria, moda, sport, comunicazione, sanità e sociale E all'impegno solidale nel sostenere Le attività gratuite di assistenza domiciliare A malati di tumore e di prevenzione oncologica Di Fondazione Ant Le premiate sono Sabrina Pientini Responsabile cure palliative per Prato e Pistoia La coordinatrice del Centro Antiviolenza Lanara Francesca Ranaldi, Patrizia Quadrati Titolare dell'azienda Manteco La giocatrice di palla a mano Virginia Occhino Sara Spampani dell'azienda Zona E la giornalista Silvia Gambi Quest'anno il premio speciale Amica di Ant Sarà consegnato a Chiara Maggenti General Manager di Atelier Damiano Carrara Prima della serata sarà possibile Visitare lo storico convitto con una visita guidata La serata sarà presentata da Maria Michela Mattei È un'iniziativa interessante perché premia 7 persone, 7 donne Si sono distinte nei vari campi qui della città di Prato E anche della città di Pistoia Naturalmente nel campo dell'industria, della moda, del sociale E nel campo medico E quindi vogliamo dare un riconoscimento Soprattutto al merito che hanno avuto nel campo professionale Nell'attenzione insieme che hanno avuto anche per noi, per il sociale È un riconoscimento che l'ultima volta l'abbiamo dato nel 2020 Poi la pandemia naturalmente ha fermato tutte quelle che erano le iniziative di questo genere Ma siamo contenti di ripartire adesso Una squadra del settore protezione civile della misericordia di Prato È partita questa mattina per la provincia di Modena La richiesta di intervento è arrivata dalla sala operativa delle misericordie d'Italia Che ha inviato in via preventiva alcune squadre provenienti dal centro e dal nord del paese Nelle zone dove è stata diramata l'allerta rossa per rischio alluvione Dalla sede di via Galcianese sono partiti tre confratelli Con un mezzo fuoristrada e due idrovore Altre due squadre della misericordia di Prato Hanno dato la disponibilità alla partenza immediata In caso di una nuova chiamata da parte della sala operativa nazionale L'associazione Cieli Aperti ha festeggiato 20 anni di attività Con un evento che si è tenuto ieri in Palazzo Comunale Vediamo Un cammino di incontri è quello dell'associazione Cieli Aperti Nata a maggio 2003 nel quartiere del Soccorso Per accompagnare e accogliere i ragazzi nel loro processo di crescita Favorire l'integrazione e la socializzazione E che ha festeggiato 20 anni di attività Un traguardo importante che l'associazione ha deciso di celebrare Promuovendo una serie di incontri Culminati con un convegno in comune dal titolo L'associazione e il territorio Moderato dal direttore di TV Prato Gianni Rossi Un'occasione per ripercorrere la storia di Cieli Aperti Insieme a coloro che hanno accompagnato l'associazione In questi 20 anni di attività Nel DNA dell'associazione Cieli Aperti C'è la parrocchia del Soccorso Perché i primi che fecero l'associazione Che costituirono l'associazione erano sostanzialmente tutte persone Che provenivano da esperienze varie all'interno della parrocchia Soprattutto dal gruppo giovanile E quindi c'è proprio un legame di tipo genetico Attualmente c'è una molto stretta collaborazione Che è proficua per tutte e due le entità Tra i principali settori sui quali è impegnata da 20 anni Cieli Aperti Educazione, Orientamento e Intercultura Nel 2022 l'associazione ha lavorato con 326 minore E accompagnato nel loro percorso di orientamento Quasi 600 giovani adulti E le sfide future sono proprio rivolte ai giovani Tra i progetti c'è un progetto sulla comunità educante Appunto per il disagio dei giovani Cerchiamo di fare reti insieme alle altre associazioni Per affrontare quello che è un disagio ormai consolidato Quello dei giovani Soprattutto in età preadolescenziale Nella prima fase adolescenziale In cui c'è veramente bisogno di proporre anche ai giovani L'impegno anche sociale Rivolto agli altri Per trovare anche la propria identità I festeggiamenti per i 20 anni di Cieli Aperti Termineranno il 20 maggio Dalle 15 a Maria Manai In via Lazzerini 1 Con giochi per ragazzi insieme alla Polisportiva Il Sogno Sempre fino al 20 maggio È possibile vedere all'ex cinema Controluce Una mostra con opere di Chiara Tahiti Pubblicato il cartellone della Prato Estate 2023 Dal primo giugno al 30 settembre Tanti eventi culturali tra musica, teatro, cinema e danza Animeranno vari luoghi della città Scopriamoli Dopo l'anticipazione del concerto di Alessandro Fiori Al carcere di Prato Previsto per lunedì 12 giugno È pronto il cartellone completo Della rassegna Prato Estate 2023 Realizzata dall'assessorato Alla cultura del comune di Prato Musica, teatro, cinema e danza Saranno accolti in vari luoghi Il Chiostro di San Domenico Il Castello dell'Imperatore Il Giardino Buonamici Officina Giovani Palazzo Datini Ma anche altre chiese, giardini e vie della città Al Chiostro di San Domenico Dal 5 al 31 luglio Spazio a musica e teatro Fra i concerti La data del nuovo tour italiano Del compositore e cantautore svedese Daniel Norgren Per il Festival delle Colline E il 18 luglio Tutta colpa di Cecco Concerto disegnato dal vivo Omaggio a Francesco Nuti A cura di Fabio Giamax Giuliani Nicolò Storai e Stefano Simmaco Al Castello dell'Imperatore Tornerà poi il cinema all'aperto Con l'arena cinematografica Dal 17 giugno al 7 settembre Sempre al Castello La sera del 3 luglio È in programma il cinema in concerto Con l'orchestra Ritmo Sinfonica Edoardo Chiti Che accompagnerà le proiezioni cinematografiche Con brani scelti dal repertorio del musical E colonne sonore di film Il programma completo Il programma completo della Prato Estate 2023 È consultabile sul cartellone eventi Del Comune di Prato E sulla pagina Facebook Prato Festival Torna Prato Estate Con un'anticipazione in carcere Metro Popolare Assieme al Comune di Prato Presenta Alessandro Fiori Poi andremo agli ex mascelli Per una festa di due giorni Con le residenze creative E poi andremo in San Domenico Per teatro e musica A Palazzo Datini Ovviamente al Castello dell'Imperatore Per il cinema all'aperto E poi il Festival delle Colline E molto altro ancora Per una diffusione Dello spettacolo dal vivo Come è sempre accaduto negli ultimi anni In vari luoghi della città E non soltanto nel centro storico E adesso la pagina sportiva Festa grande Al campo sportivo Rossi Del Coiano Santa Lucia Prato Social Club Per la presentazione Del libro di Gabriele Zottoli La mia vita tra calcio e sassi Ce ne parla Massimiliano Masi C'era una volta Chi si era fermato a Eboli C'era una volta Chi è partito da Eboli La prima opera letteraria Di Gabriele Zottoli Il mio calcio Tra calcio e sassi Scritto insieme a Filippo Moretti Parte proprio Dalla terra natia di Eboli Dove viene adocchiato Dagli osservatori della Fiorentina Insieme al conterraneo Mimmo Caso E inizia Una splendida avventura Fatta di gioia Aneddoti Malattie E tanto amanità Che Gabriele Zottoli Ha voluto sintetizzare In un libro Ho cominciato a scrivere Con questa penna Tremante Questo accenno di libro Che è diventato Sempre più importante Più il desiderio Di esprimere Quello che è stato Il corso degli anni Passati in varie categorie Città E poi alla fine Ritrovarsi in una In una realtà Quella di Prato Dove l'ho vissuta Prima da giocatore Poi da allenatore Da istruttore Di palestre Tutta questa cosa qui Sempre in mezzo alla gente Ho detto Di far capire Quello che ho provato Le emozioni Belle e brutte Tribune del Vittorio Rossi Di Santa Lucia Sold out Per tributare A Gabriele Zottoli Tutto l'affetto Che ha saputo Negli anni guadagnarsi Nel Coiano Santa Lucia Questo evento Questa festa Che nasce da lontano Perché abbiamo vissuto Insieme a lui Proprio la creazione Di questo libro Fin da quando Cominciò ad avere Le prime idee Su come approcciarlo Quindi siamo davvero contenti Un libro che racconta Una storia Molto appassionante Fatta come lui Ha scritto Di calcio e sassi Ci aggiungerei anche Di affetti Perché questa è una Delle trame che accompagnano Un po' tutta la vita Di Gabriele E fra questi affetti Crediamo di poterci sentire A piano titolo Anche noi parte Della sua vita E poi gli amici di una vita Egno Pellegrini Mimmo Causo Fausto Liva Guglielmo Maggiani E Alessandro Tatti Con i quali ha fatto Sognare il Prato E poi il capitano Giancarlo Antonioni Che Gabriele Zottoli Si è trovato Compagno ingombrante Nel suo ruolo La mia è una presenza Proprio per augurare a Gabriele Che abbia successo Sicuramente come calciatore Poteva avere una risonanza maggiore Perché era bravo Come persona lo è altrettanto Perché poi avrà raccontato un po' Tutte le vicende che ci sono successe La terribile vicenda Del mostro di Firenze Le trame oscure Dei misteri d'Italia A cavallo Tra gli anni 70 e 80 E questo è il tema Al centro del libro Scritto dal giornalista Stefano Brogioni Presentato al Garibaldi 1020 Stefano Brogioni Giornalista della Nazione Autore del libro Il mostro nero Un nuovo libro Sul mostro di Firenze C'è ancora da dire qualcosa Su questa lunghissima Intricata vicenda Sicuramente Una vicenda intricata E questo Magari implica il fatto Che ci siano anche Tanti punti di vista Da cui osservarla Sono un giornalista Che ha provato A collocare Questa striscia omicidiaria In un periodo Che è poi anche La coda Della strategia Della tensione Partendo dall'assunto Che comunque Secondo me È stato terrorismo Anche quello del mostro Perché alla fine Ha cambiato Le abitudini della gente E non sarà una bomba Che esplode E fa 80 vittime Tutte insieme Ma le vittime Sono state ugualmente Tante Giovani Anche se diluite Nel tempo Ecco E partendo da questo Magari Ho provato anche A collocare A contestualizzare Quello che erano Appunto Le indagini Sul mostro In quello che accadeva In altre indagini Di quell'epoca Quindi E ritrovo Depistaggi Ritrovo Personaggi oscuri Insomma Si ritrova una serie D'elementi Che forse Quanto meno Possiamo far ripensare Cosa sia stato Il mostro Perché oggi Non sappiamo neanche Che cos'è il mostro Cos'è il mostro Un omicida Ma forse non solo Potrebbe essere Anche altro Anche una mente Aperta Forse raffinatissima Forse addirittura Più avanti Di chi Indagava all'epoca Che ha voluto Oltre a quei morti Appunto Anche Seminare Seminare Terrore Edoardo Orlandi Autore Insieme a Eugenio Locellini Del podcast Nessuno è il mostro Di Firenze È pronto anche Per lanciare Una nuova iniziativa Un nuovo podcast Questa volta Caso Zero Media È in collaborazione Con One Podcast Un podcast Sul Forteto Caso Zero Dopo il mostro di Firenze Ha deciso di Addentrarsi in un'altra storia Molto vicina a noi Soprattutto Da la città Dove siamo adesso Alla nostra città Ed è la vicenda Forteto Una tristissima pagina Della vita giudiziaria Sociale Culturale Politica Di questa Di questa regione Che poi Diciamo Ha coinvolto Anche tutto il nostro paese È nata questa meravigliosa Collaborazione Con One Podcast E il giornalista Marco Maisano E insieme Abbiamo scritto Sarà lui lo speaker L'Isola che non c'era La favola nera del Forteto Che è un podcast Di cui è uscito il trailer Mercoledì E Di cui usciranno Le prime due puntate Il prossimo Mercoledì E adesso è il momento Di scoprire insieme Di che cosa si parlerà Intorno alle nove In onda Subito dopo Il nostro Tg La linea Al nostro Dario Zona Che cosa caratterizza La comicità toscana Perché si ride Da dove sgorga La risata A queste domande Proveremo a dare risposta Questa sera Intorno alle nove Con il nostro ospite Massimiliano Galligani Buonasera Buonasera Comico, cabarettista Autore, regista Teatrale Parleremo del suo Ultimo spettacolo Ferro e Piuma Parleremo appunto Anche di cabaret Di spettacolo Di comicità A 360 gradi Rimanete con noi A tra poco Intorno alle nove Quasi 250 bambini E ben 38 Insegnanti Sono stati premiati Nell'ambito Della sedicesima edizione Del concorso Tanti geppetti Tanti pinocchi Che si è svolto Nel giardino Di Villa Garzoni A Collodi Organizzato da CNA Pensionati Toscana In collaborazione Con la fondazione Nazionale Carlo Collodi Con il patrocino Della regione Toscana E del comune Di Pescia Tra le otto scuole Premiate C'è anche La Fabio Filzi Di Prato Il tema Di questa edizione È stato La costruzione Di un futuro Migliore Più verde Più inclusivo Basandosi su questo Le scuole toscane Hanno dovuto Realizzare Disegni e lavori Creati Con materie Di scarto Adesso è il momento Di scoprire insieme Gli appuntamenti Previsti per domani A Prato Ed intorni Con la nostra Agenda Domani Alle 16.30 Alla biblioteca Bartolomeo Della Fonte Di Montemurlo Letture e coccole Primo appuntamento Con le letture D'animazione Per bambini Fino ai tre anni Sempre alle 16.30 All'archivio Di Stato Di Prato Presentazione Del volume Di Alessandro Affortunati Ferdinando Targetti Una giunta rossa 1912 1914 Alle 17.10 Alle 19 Al Garibaldi 1020 Proiezione Del docufilm Borromini e Bernini Sfida alla perfezione Di Giovanni Troilo Alle 21 Al centro Pecci Cinema Proiezione Del film Baci Rubati Di Fabrizio Laurenti E Gabriella Romano In collaborazione Con l'assessorato All'istruzione pubblica Pari opportunità E memoria Del comune Di Prato Da domani A domenica 21 maggio In piazza Del mercato nuovo Prato a tutta birra Undicesima edizione Dell'iniziativa Dedicata Alla birra artigianale Con street food Mercatini E musica dal vivo Ad ingresso libero Si comincia domani sera Con la Rino Gaetano Band E con l'agenda termina Per questa sera Al nostro Tg Vi lasciamo al meteo A cura del consorzio Lama A seguire come annunciato Intorno alle 9 A tutti voi una buona serata Da Maddalena Ciambellotti E da tutto lo staff Di TV Prato Arrivederci Stop Purtroppo Questo non succede Solo nei film Ma se vuoi stare tranquillo Un modo c'è Affidati A veri professionisti Prato all'armi Una sicurezza da Oscar Era un colpo perfetto Avevo curato ogni dettaglio Eppure sono qui Mi definivano abile Scaltro Infallibile Infallibile E anche se non ce l'ho fatta Ci riproverò Potete stare tranquilli voi Comprato poi Non è un caso Che siano professionisti Della sicurezza Della sicurezza Problemi di vista? Ottica Look Vision, il piacere di vedere bene. Via Ada Negri 84-86 Prato. Una buona serata a tutti dalla sala metro del Consorzio Lamma. Iniziamo con il vedere la situazione a grande scala prevista per domani. Vediamo come ancora insista sulla nostra penisola la bassa pressione già presente nella giornata di oggi. Con minimo sul centro Italia continuerà a influenzare il tempo sull'Italia anche per domani e dopodomani. Pio a ovest una vasta area di alta pressione che impedisce l'arrivo delle perturbazioni atlantiche sul Mediterraneo. Passiamo a vedere la previsione per la giornata di domani. In mattinata un cielo molto nuvoloso, coperto con piogge più frequenti sulle zone appenniniche più sparse altrove. Venti da nord-nord-ovest, moderate a tratti forti ancora domattina con mari nel complesso mossi. Molto mossi nel pomeriggio, qualche timida schiarita, piogge più probabili sulle zone meridionali e un po' sull'Appennino. Venti in attenazione, temperature stazionare o in lieve aumento. Passiamo infine alla giornata di giovedì. Ancora insiste quella bassa pressione, porta molte nuvole sulla nostra regione. Un cielo molto nuvoloso, coperto con piogge più probabili. In mattinata sulle zone meridionali, venti da nord-est, mari tra poco mossi e mossi. Nel pomeriggio poco cambia, ancora cielo molto nuvoloso con piovaschi più probabili sulla costa. E al sud venti deboli, mari che diventano poco mossi, temperature senza variazione di rilievo rispetto alla giornata di mercoledì. Bene, con questo direi che è tutto.